I dati allarmanti che arrivano dal Cotugno, soprattutto di minorenni che non sono stati vaccinati, anche di persone che continuano ad arrivare in terapia intensiva senza la doppia dose di vaccino? Questo è un monito che va a tutti coloro che non si vaccinano. Non vaccinarsi significa rifiutare un'opportunità che la scienza ci ha dato per poter salvarci dalla malattia. Credo che in questo momento di ripresa dei contagi con la stagione che non è ovviamente favorevole, credo che un impegno di tutti nella vaccinazione si serva a salvare se stessi e salvare gli altri. Questo è molto importante, dobbiamo ricordarlo.